La città di Pesaro è davvero sotto shock per la notizia di ieri che riguarda proprio l'arresto di alcuni necrofori che addirittura rubavano dei pacemaker dai corpi dei defunti. Una notizia che ha sconvolto davvero tutta la città e non solo. Ci spostiamo poi a Fano perché una maxi telecamera è in grado di percepire quali auto non hanno l'assicurazione. Vediamo il santo del giorno. Oggi si celebra Sant'Antonio Maria Claret, Vescovo. Il sole è sorto alle 7.33, tramonterà alle 18.11. Allora oggi vorrei partire subito dalle prime pagine dei nostri quotidiani per vedere come affrontano appunto questa grave notizia. Partiamo dal Corriere Adriatico. Rubavano i pacemaker anche ai morti. Sgominato a Pesaro il cartello del caro estinto. Cinque necrofori arrestati, altri 32 indagati. Ecco questo è il titolo. Poi nuove piste ciclabili a Pesaro, disegnati e finanziati due ulteriori tratti. Qui vedete l'assessore Biancani e l'assessore Briglia con la mappa. E intanto a Fano progettiamo insieme il futuro di Fano. Ser Filippi si appella alle istituzioni pubbliche e private. Stati generali contro la crisi. Lo sport. Leonardo rialza la vis. Maggi ha la mia fiducia. Altro infortunio. Il Fano perde pure. Zanetti. Invece la prima pagina del messaggero di oggi. Vediamo subito il titolo. Inferno. Sanità. Cinque arresti. Necrofori in manette. Sono accusati anche di avere sezionato salme per rubare pacemaker. Operazione della Guardia di Finanza. 29 denunce a carico di medici e imprese funebri. Nella notte una banda di ragazzi è stata fermata, preparava dei furti, i ragazzi piccolissimi di età, dai 16 ai 20 anni, è stata fermata appunto a Borgo Santa Maria di Pesaro. Ecco qui la telecamera Fano che svela le auto non in regola. Il Tardufo di Acqualagna, piatto forte della pace USA, regalato a Obama, protagonista della cena dopo lo shutdown evitato. Il meteo. Molte nuvole, poi però migliora. E vediamo infine la pagina del resto del Carlino, anche qui i predoni della morte, questo è il titolo, l'inchiesta della finanza, 5 necrofori arrestati, 29 denunce tra medici e impresari. Accuse rubavano i pacemaker tagliando i cadaveri, il racket del caro estinto con gli extra incassavano, pensate, circa 10.000 euro in più al mese. La maxi gara del gas, si sceglie l'advisor, incarico da 350.000 euro. Fiscalisti condannati, altri invece assolti, fiscopoli bis, le sentenze. Campagnolo torna a casa, tutti liberi gli studenti, fermati sabato a Roma. Lungo la statale, entro la primavera, la pista ciclabile si allunga in bici fino a Santa Maria. Ecco questa novità per la città di Pesaro, intanto lavori al marciapiede in zona Baratov. Il comune non rispetta i suoi regolamenti sul verde pubblico e quindi i lavori contestati in questa zona pesarese. Rientriamo, anzi rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino, andiamo subito a vedere l'inchiesta Lazarus. Questo è il titolo che è stato dato a questa inchiesta che durava da tempo, in cui sono coinvolte tantissime persone, soprattutto all'interno della sanità, in questo caso a Pesaro. Nessun rispetto per il caro istinto, portavano via pure i pacemaker. La finanza arresta 5 necrofori, un extra da 10.000 euro al mese. 34 sono le persone coinvolte, 5 necrofori agli arresti domiciliari, 2 persone l'obbligo di presentarsi, 27 denunciati tra medici, dipendenti pubblici e impresari. E qui ci sono anche i nomi, il Carlino fa i nomi, li andiamo a vedere. Antonio Sorrentino, 58 anni, di Montellabate, da anni attivo alla camera mortuaria dell'ospedale di Pesaro. Vincenzo Vastarella, 47 anni, di Montecchio. Domenico Pascolo, 44 anni, residente a Pesaro. Donatella Giunti, 42 anni, residente a Pesaro. Francesco Furone, 54, di Sant'Angelo, in Lizzola. Questi sono i nomi delle persone arrestate. Trovata nella cassaforte di uno degli arrestati, quante bollette non fatte. Ecco qui, poi i vari colpi di scena, eccetera, di questa situazione. Intanto l'azienda parla Marche Nord, la direzione dice coinvolti solo i necrofori. L'assessore Mezzolani dice agiremo con determinazione. L'azienda è parte lesa, trasferiti da mesi e ora sospesi. I parenti dei difunti devono essere indennizzati per danni morali e materiali. Uomo, donna, che roba è? Io ho anche il pannolone, telefonate a favore delle imprese, abiti in cassi d'oro, perché poi i necrofori dovevano sapere chi andavano a vestire. Ecco un'intercettazione telefonica, che poi qui è riportata dal resto del Carlino, tra un impresario di pompe funebri, che dice è uno dei cinque arrestati, che non ha nulla per andare a vestire quel morto. Insomma, trovati anche tanti vestiti che dovevano essere poi utilizzati per i morti, a una che le era morto il marito, le ho venduto un guardaroba da 1.400 euro. Insomma, uomini, donne che si approfittavano di questa situazione di drammatica, di morte in famiglia e cercavano di speculare tutto ciò. Pagina di Fano, teatro dialettale, il sipario rischia di non alzarsi, la manifestazione Cianfrusaglia è in difficoltà. Tutto troppo caro, anche il Politeama potrebbe essere a rischio l'edizione 2014 di questa manifestazione. Questa nota rassegna teatrale, giunto al decimo anno, purtroppo con problemi economici. Stanno pensando di spostarla nel periodo estivo e di farla all'arena di Tre Ponti. E qui vedete un'immagine di una delle commedie in vernacola andata in scena lo scorso anno al teatro Politeama. Ancora Fano, la Fondazione Carifano divide i partiti, il PDL su bene comune, fanno i primi della classe ma il caso l'abbiamo sollevato noi. Non accetta lezioni da De Marchi e da bene comune, il consigliere regionale del PDL, Mirko Carloni, che per primo ha sollevato dubbi e chiesto chiarimento sull'investimento della Fondazione in Banca Marche. Domenica si svolgerà all'interno della Fondazione e dell'Assemblea annuale dei Soci, tre in scadenza verranno rinnovati, altri sette invece sono da nominare. Tempo di rinnovo anche per gli enti locali che designano i loro rappresentanti. L'unico nominativo noto è quello di Mazzanti del Metaurense. Chiudiamo le pagine di Fano del resto del Carlino, in cui si parla di Danna e il convitto dimenticato, dibattito sul Vittoria Colonna. Qui vedete una veduta del cancello, d'entrata del convitto Vittoria Colonna. Questa è una veduta dall'alto, questa sera si parla di Storie Senz'acqua, il titolo di un incontro che è organizzato alle 21, una grande struttura nel cuore della città che va in malora. Il consigliere indipendente trova il sostegno anche dei grillini, i marcheggiani di Icici stiamo pensando. Andiamo a vedere adesso le pagine del messaggero di oggi, partendo da Fano, in cui si parla di questa maxi telecamera che ha la capacità di rilevare le auto che sono sprovviste di assicurazione. I vigili in mezz'ora di simulazione, scovati 5 mezzi non assicurati. Una super telecamera appunto svela ogni infrazione e questo, insomma, è una telecamera acquistata dal comune di Fano per 10.000 euro, è la prima del suo tipo nelle Marche e la seconda in Italia. Darà un contributo enorme alla sicurezza sulle strade e sarà attivata a partire dal lunedì prossimo. Quello che dice appunto e assicura l'assessore Michele Silvestri. Candidature, il PSI al PD basta con i ritardi verso il voto, il PD incontra insidacati per tirare le fila di un rapporto che tornerà utile al momento di stendere il programma elettorale. Si parla anche di Marotta Unita, il comitato esulta denti stretti, nessun blitz in regione, perplessità sul voto degli abitanti di Torrette. Democrat e la tua Fano ci hanno presi in giro. Salviamo l'ex convitto Colonna, quello che abbiamo visto poco fa anche nelle pagine del resto del Carlino. A breve, anzi domenica prossima, partirà un'altra manifestazione dedicata al Tartufo, eccellenza della nostra provincia, in questo caso ad Aqualagna. Quindi partirà la Kermesse, una delle maggiori rassegne dedicate al pregiato bianco e qui appunto nell'articolo potete leggere anche quelli che saranno i protagonisti e i VIP che si sfideranno proprio in questa manifestazione ad Aqualagna. Intanto ci spostiamo a Fano e si parla anche degli studenti dell'Apollone, vincono lo scatto in negozio, un'iniziativa di Marcello Sparaventi. Torniamo alle pagine di Pesaro, si parla di case popolari, molti più alloggi e in meno tempo se acquistiamo. L'assessore Corraducci dice bando in preparazione e saranno in vari quartieri. Verrà aumentata la pista ciclabile sull'Adriatica, da Santa Maria delle Fabrecce fino a Via Tolmino. Questo è il progetto presentato dagli assessori Biancani e Briglia. Operazione Pisaurum, gli arrestati smerciavano coca per tutte le tasche. Quelli, come avete visto in questi giorni, sono stati arrestati tante persone, tra Pesaro e Fano, con uno spaccio di droga pazzesco. Ecco, e quindi adesso escono altre rivelazioni, il fatto che la coca era un po' per la droga, era per tutte le tasche. Raid di ladri nei negozi, ma i colpi falliscono nella notte, una notte di scorreria a Pesaro. Ladri che cercano disperatamente di arraffare qualcosa nelle case, ma anche in alcuni negozi delle città, ma che il più delle volte sono costretti a fermarsi al di là del portone d'ingresso. Quindi la polizia sta indagando anche su una serie di tentati furti. Anche qui salme sezionate per rubare pacemaker. Cinque arresti, questo è l'articolo del messaggero. necrofori sotto accusa, denunciati altri 29, tra medici e imprese funebri. Chiaramente Kodakons, dice, offre assistenza legale ai familiari coinvolti nella vicenda. I parenti dei defunti vittima della truffa sui funerali hanno diritto ad un risarcimento. Banda di ragazzi bloccata con arnesi da scasso. Proprio la scorsa notte una macchina è stata individuata, era pieno di ragazzini giovanissimi tra i 16, 17 e 20 anni. Tutti residenti tra Colbordolo, Montecchio e Tavuglia sono stati individuati a Borgo Santa Maria e all'interno dell'auto avevano degli arnesi da scasso. Politica, Agosto, li dovrà rinunciare, ricucire, scusate, lo strappo interno del PD, in questa intervista che potete leggere, fatta da Luca Fabri. Andiamo a vedere adesso le pagine del Corriere Adriatico, partendo da quelle di Fano. Convoco il tavolo degli stati generali, crisi e tensioni sociali, Ser Filippi chiama tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nello sviluppo. E qui vedete appunto l'assessore chiede al sindaco di convocare gli stati generali per elaborare un piano contro la crisi economica. Nella foto, poi, questa qui al centro, vedete anche tante persone in cerca di abiti nei locali della Caritas. Proprio di Caritas, un'analisi ha fatto vedere che nel 2012 sono stati impiegate 37 persone per un importo di 28 mila euro, mentre al 30 giugno 2013 i tirocini formativi sono stati 16. Fusione delle due asset, mancano le firme dei sindaci. Il percorso si complica anche per la vicinanza delle elezioni amministrative. Ecco il degrado all'ex convitto Vittoria Colonna, messo in evidenza nelle pagine di oggi da il consigliere regionale Giancarlo Danna. A proposito del referendum, altro che un blitz, il comitato respinge e ribadisce che il voto era già in calendario. Unificazione di Marotta, qui vedete tutti i rappresentanti del comitato Marotta Unita nella piazza principale della località. Fano si ribella consiglieri irresponsabili, Luca Stefanelli e Giacomo Mattioli, insieme nella contestazione bipartisan alla consultazione popolare. In Biblioteca San Costanzo, Maura Maioli, Tramare e Crinale, la presentazione che ci sarà sabato. A Barchi, cucina colorata, tutti i segreti dell'utilizzo delle erbe aromatiche. Qui vedete Maria Elisa Rossi, protesta il PDL grave violazione a San Lorenzo in campo, commissione mense, minoranza dimenticata. A Lucrezia i futuri genitori incontrano l'ostetrica. Torniamo alle pagine di Pesaro e chiudiamo con queste la rassegna stampa di oggi con le pagine appunto del Corriere Adriatico. Salme depredate, la città è sotto shock. Accuse e difese d'ufficio, richieste di dimissioni, avvocati a disposizione dei familiari truffati e derubati. Intanto Aldo Ricci ringrazia i magistrati e le fiamme gialle. A Urbino, scarcerati gli studenti Campagnola e Forina che erano a Roma, a scontri a Roma, ieri gli interrogatori, festeggiava il compleanno ricoverato, cade dallo scivolo, paura per un bimbo, anche ieri nel nostro telegiornale è stato raccontato di questo accaduto, un bambino di 9 anni è caduto dallo scivolo, e quindi tanta paura per i genitori. Chiudiamo con la pagina dedicata da Qualagna alla capitale del Tartufo, qui vedete Alberto Drudi, Andrea Pierotti il sindaco, Renato Claudio Minardi, Alberto Mazzoni, tutto pronto per la Fiera Nazionale. Sei giornate tra mercato, cooking show e parterre di volti noti. Sono le 8 e 2 minuti, finisce qui la nostra Rassegna Stampa, appuntamento con il nostro telegiornale questa sera alle 20 e 30, poi vi ricordo che le repliche della Rassegna Stampa le ritroverete alle 9 e 10, alle 13 e 30 sul Digitale Terrestre, invece in streaming praticamente a partire da pochissimo. Noi ci rivediamo domani, buona giornata. lenisse di Quintana Stampa a partire da Put account l'A Tartu Grazie.